Ciao amici e la cosa che cosiddetti oggi è? Oggi cari amici sapete cosa vi facciamo vedere? Le palline di Natale Che si trovano dentro l'ovino Kinder Se non ti metti qua gli amici non vedono niente Abbiamo trovato intanto che tu apri Vi faccio vedere quella che abbiamo trovato Per adesso siamo stati fortunatissime Perché le abbiamo trovate tutte diverse Speriamo di non guffare Perché l'elfo è nuovo Qua c'è l'orso polare che gira Vedete? Guarda Aspetta, sì Arianna si mangia un passettino di vino Kinder Poi dopo oggi in un altro ovetto abbiamo trovato Arianna, basta vini Kinder L'elfo Anche questo gira, vedete? Poi abbiamo trovato Poi abbiamo trovato quelli che abbiamo già fatto vedere L'albero di Natale Che questo è luminoso Ma adesso non si vede perché E' buio Cioè c'è luce E questo qua si illumina al buio La mamma l'ha fatto cadere E poi abbiamo trovato sempre il pinguino che gira Però adesso siamo state fortunatissime Non come Arianna si sta mangiando tutta la cioccolata Non come con la casetta di Danny Cane E' vero? Con i mini mondi di Peppa Avevamo trovato solo Le casette di Danny Cane Cosa ci sarà qua Arianna? 3, 2, 1 Vediamo un po' chi è Ma non ce l'abbiamo Hai la Renna È una Renna ragazzi Sì Fantastica Anche questa Ma non capite questa qua non ce l'abbiamo Che gira Adesso ve la montiamo e la facciamo vedere Ecco amici l'abbiamo montata E anche questa E' vero Renna dice che fa il giro giro Effettivamente gira Quindi abbiamo La Renna L'Elfo Il pinguino L'orsetto E l'albero Ma Arianna mi faceva notare Che su Le immagini riassuntive Ci sono dentro la confezione Per far vedere i personaggi A noi effettivamente su qua non c'è l'albero Saranno due serie? Non lo so Sì Va bene Lo scopriremo Ma secondo voi Quindi le palline Sono soltanto Due Quattro Sei Otto O saranno di più? E magari hanno tagliato via un pezzetto Guarda No Boh Eh ma devi farle vedere anche agli amici Non lo so Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Ott Bravissima Quindi noi adesso vi facciamo vedere Da vicino come sono Non si vede l'albero Ecco Vedete amici C'è la renna Non si fa vedere Dopo si aggancia Noi abbiamo già fatto l'albero di Natale Quindi adesso le andremo a riagganciare nuovamente Poi c'è l'elfo Ari non mi urtare per favore No Non si vede bene Poi abbiamo Il pinguinino Il pinguino piccolino Certo anche che ci metto la mano davanti Vero Arianna Il L'orsacchiotto E L'alberello Che si illumina Al buio Forse per quello Magari c'è la serie In effetti qua Non ce n'è nessuno Che si illumina al buio Forse c'è la serie Che si illumina al buio E la serie Che non si illumina Va bene Noi amici vi salutiamo E ci vediamo Nel prossimo video Aspettate Cliccate Qui sotto la campanellina Per vedere Altri nuovi video Con le altre Palline di Natale Spero che questo video Mi sia piaciuto Mettete tanti pollicioni In su Se volete Vedere Altri Video Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Ciao amici Ciao